Io credo che sicuramente abbiamo un'analisi chiara del nostro avversario, un avversario che sarà super competitivo, molto disciplinante, molto intenso dall'inizio alla fine e noi vogliamo essere noi stessi, cioè vogliamo essere noi stessi al nostro migliore. Sappiamo che quando individualmente e collettivamente riusciamo ad arrivare alla nostra migliore performance ci permette di raggiungere quello che hai detto, cioè di competere e vincere con qualsiasi squadra. E' quello che ci crede, è quello che ci passa ai miei ragazzi, alla mia squadra, con ambizione, con coraggio di portare quello che loro lavorano, quello che loro si creano, il nostro calcio, per dopo vincerò ogni partito. Grazie.